Annabeth. Annabeth perse la cognizione del tempo. Si accorse che l'Ambrosia cominciava a dare qualche risultato, anche se la gamba continuava a farle così male, da provocarle un dolore pulsante fino al collo. Lungo tutte le pareti, i ragni zampettavano nell'oscurità, come in attesa degli ordini della padrona. A migliaia frusciavano dietro gli arazzi, facendo muovere le scene in tessute come il vento. Annabeth si sedette sul pavimento pericolante e tentò di preservare le forze. Mentre Arachne non la osservava, cercò di trovare un minimo di segnale sul portatile di Dedalo per contattare gli amici, ma ovviamente non ebbe fortuna. Così non le rimase altro da fare che starsene lì a guardare stupita e terrorizzata il ragno che lavorava, con le otto lunghe zampe che si muovevano a velocità ipnotica, sbrogliando a poco a poco i fili di seta intorno alla statua. Con le vesti dorate e il volto d'avorio luminoso, l'Atena Partenos era ancora più spaventosa di Arachne. Guardava con occhi severi in basso, come se dicesse «Portami qualcosa di appetitoso da mangiare, altrimenti…». Annabeth immaginò di essere un'antica ateniese che col chitone indosso entrava nel Partenone e si trovava di fronte quell'enorme statua con scudo e lancia e con la mano libera che reggeva Nike, lo spirito alato della vittoria. Roba da mettere in soggezione qualsiasi mortale. Mentre l'Atena Partenos veniva liberata dai fili, l'aria si riscaldava. La statua irradiava potere, la sua pelle d'avorio ardeva di vita. In tutta la stanza i ragni più piccoli cominciarono ad agitarsi e a ritirarsi verso l'ingresso. Annabeth pensò che le ragnatele di Arachne avessero in qualche modo imbrigliato la magia della statua. Adesso che era libera, l'Atena Partenos riempiva la sala di energia magica. Secoli di preghiere e sacrifici erano stati compiuti dai mortali al suo cospetto. La statua era impregnata del potere di Atena. Arachne sembrava non accorgersene. Continuava a probottare tra sé, contando i metri di seta e calcolando il numero di fili che le sarebbero serviti. Quando la vedeva titubante, Annabeth la incoraggiava a gran voce e le ricordava come sarebbero stati meravigliosi i suoi arazzi sull'Olimpo. La statua divenne così calda e luminosa che Annabeth riuscì a scorgere il tempio più nei dettagli. Le opere in muratura di epoca romana, che probabilmente un tempo erano di un bianco abbagliante, le ossa scure delle antiche vittime di Arachne appese alla ragnatela e gli enormi cavi di seta che collegavano il pavimento al soffitto. Annabeth si accorse anche di come erano fragili le piastrelle di marmo sotto i piedi. Erano ricoperte di un sottile strato di ragnatela, come una rete che teneva insieme i frammenti di uno specchio. Ogni volta che l'Atena Partenos si spostava anche di poco. Sul pavimento si aprivano e si allargavano altre crepe. In alcuni punti c'erano buchi grandi come tombini. Annabeth avrebbe quasi voluto che fosse di nuovo buio. Anche se il suo piano fosse riuscito e lei avesse sconfitto Arachne, non sapeva ancora come uscire viva da quella sala. «Quanta seta!» bofonchiò Arachne. «Potrei farci venti arazzi. Continua!» gridò Annabeth. «Stai facendo un lavoro meraviglioso!» Il ragno riprese a lavorare. Dopo quella che sembrò un'eternità, una montagna di seta scintillante giaceva ammucchiata ai piedi della statua. Le pareti della sala erano ancora ricoperte di ragnatele. I cavi di sostegno che tenevano insieme la stanza erano intatti. Ma l'Atena Partenos era libera. «Ti prego, svegliati!» implorò Annabeth. «Mamma, aiutami!» Non accadde niente, ma le crepe sembravano diffondersi ancora più rapidamente. Stando quello che Arachne aveva detto, i pensieri malvagi dei mostri avevano divorato le fondamenta del santuario nel corso dei secoli. Se era vero, da libera l'Atena Partenos avrebbe attirato ancora di più l'attenzione dei mostri del Tartaro. «Il progetto!» disse Annabeth. «Sbrigati!» Sollevò lo schermo del computer per mostrarlo ad Arachne. Ma il ragno le rispose in malo modo. «L'ho memorizzato, bambina! Ho l'occhio dell'artista per i dettagli!» «Certo, ma dobbiamo sbrigarci!» «Perché?» «Beh, perché così possiamo presentare la tua opera al mondo!» «Mmm, va bene!» Arachne cominciò a tessere. Trasformare i fili di sete in lunghe strisce di tessuto fu un lavoro lento. La sala rimbombò. Le crepe e i piedi di Annabeth si allargarono ulteriormente. Se Arachne l'aveva notato, sembrava non l'importasse. Annabeth rifletté sull'idea di provare a spingere in qualche modo il ragno nell'abisso, ma ci rinunciò. Non c'era un buco abbastanza grosso, e poi, se il pavimento avesse ceduto, Arachne probabilmente si sarebbe salvata restando appesa alla seta, mentre lei e l'antica statua sarebbero precipitate nel tartaro. Lentamente, il ragno finì le lunghe strisce di seta e le intrecciò insieme. La sua abilità era straordinaria. Annabeth non poteva fare a meno di restarne colpita. Provò un altro piccolo dubbio verso Atena. E se Arachne fosse stata davvero una tessitrice migliore della dea? Il punto però non era quello. Arachne era stata punita per il suo orgoglio e la sua arroganza. Per quanto si fosse straordinari, nessuno poteva andarsene in giro a offendere gli dèi. Le divinità dell'Olimpo servivano a ricordarsi che c'era sempre qualcuno migliore di te, e che quindi non era il caso di montarsi la testa. Eppure, essere trasformata in un ragno mostruoso e immortale era una punizione piuttosto dura per un atto di vanteria. Arachne cominciò a lavorare più rapidamente, mettendo insieme i fili. Nel giro di poco tempo, l'opera fu conclusa. Ai piedi della statua giaceva un cilindro intrecciato largo un metro e mezzo e alto tre. La superficie brillava come una conchiglia di orecchia di mare, ma ad Annabeth non sembrò bello. Era solo pratico, una trappola. E sarebbe stato bello, solo se avesse funzionato. Arachne si girò verso la ragazza con un sorriso famelico. Fatto! Adesso voglio la mia ricompensa. Dimostrami che mantieni le tue promesse. Annabeth osservò la trappola e vi camminò intorno. Corrugò la fronte, analizzando la tessitura da ogni angolo. Poi, facendo attenzione alla caviglia dolorante, si mise carpogne e si trascinò al suo interno. Aveva calcolato le misure a mente. Se le aveva sbagliate, il suo piano sarebbe fallito. Ma scivolò lungo il tunnel di seta senza toccarni i lati. La ragnatela era appiccicosa, ma non troppo. Uscì dall'altra estremità, scuotendo la testa. Ha un difetto. Che cosa? sbottò Arachne. Impossibile! Ho seguito le tue istruzioni. Lì dentro, disse Annabeth. Entra e controlla tu stessa. È proprio nel mezzo. Un difetto nella tessitura. Arachne aveva la schiuma alla bocca. Annabeth temette di aver forzato troppo la mano e che il ragno scattasse all'attacco. E lei avrebbe fatto la fine. Di un altro mucchietto di ossa in mezzo alle ragnatele. Invece Arachne sbatte gli otto piedi a terra, con petulanza. Io non commetto mai errori. Oh, è piccolo, ribatte Annabeth. Probabilmente puoi ripararlo. Ma voglio mostrare agli dèi solo il tuo lavoro più bello. Senti, entra e controlla tu stessa. Se puoi ripararlo, allora lo mostreremo agli dèi dell'Olimpo. Probabilmente licenzieranno le nove muse e assumeranno te come sovrintendente di tutte le arti. La dea Arachne. Sì, non ne sarei sorpresa. La dea. Il respiro di Arachne si fece corto. Ok, ok, sistemerò il difetto. Infilò la testa nel tunnel. Dov'è? Proprio nel mezzo, la esortò Annabeth. Vai avanti. Potrebbe essere un po' stretto per te. Non sono così grossa, ribatte Arachne e sgusciò dentro. Come Annabeth aveva sperato, l'addome del ragno ci passava malapena. Mentre si faceva strada dentro il tunnel, le strisce di seta si dilatarono per farlo passare. Non vedo nessun difetto, annunciò. Davvero? replicò Annabeth. Beh, è strano. Esci, così do un'altra occhiata io. Era il momento della verità. Arachne si dimenò, tentando di tornare indietro. Il tunnel di seta si contraste e la strinse forte. L'enorme creatura tentò di sgusciare in avanti, ma la trappola le si era già attaccata all'addome. Non riusciva ad andare neanche in quella direzione. Annabeth aveva temuto che le zampe accuminate del ragno potessero bucare la seta, ma erano talmente attaccate alla pancia che potevano muoversi a malapena. «Che succede?» gridò Arachne. «Sono bloccata!» «Ah!» rispose Annabeth. «Mi sono dimenticata di dirtelo. Questa opera d'arte si intitola Manette Cinesi. È una versione più grande dell'idea originale. Io l'ho intitolata Manette Cinesi d'Aragno.» «Tradimento!» Arachne si agitava, si rotolava e si dimenava, ma la trappola la stringeva forte. «Questione di sopravvivenza», la corresse Annabeth. «Mi avresti ucciso in tutti e due i casi, che ti avessi aiutato meno, giusto?» «Beh, ovviamente. Sei una figlia di Atena.» Arachne si fermò per un attimo. «Volevo le promesse, io!» «Sì, come no!» Annabeth arretrò, mentre il cilindro di seta riprendeva a spostarsi. «Di solito queste trappole sono fatte con il bambù intrecciato, ma la seta di ragnatela è addirittura migliore. Tiene parecchio ed è molto più difficile da rompere, perfino per te.» Arachne si rotolò e si dimenò. Anche con la caviglia rotta, Annabeth riuscì a evitare il gigantesco cilindro di seta. «Ti distruggerò! E voglio dire, no, sarò molto carina con te, se mi lasci uscire. Risparmierei energie se fossi in te.» Annabeth trasse un respiro profondo, rilassandosi per la prima volta da ore. «Adesso chiamo i miei amici.» «Li chiami per parlargli del mio capolavoro?» chiese Arachne, speranzosa. Annabeth perlustrò la stanza. Ci doveva pur essere un modo per mandare un messaggio iride a Largo 2. Le era rimasta un po' d'acqua nella bottiglia, ma come avrebbe potuto creare abbastanza luce e nebbia per produrre un arcobaleno in una grotta buia? Arachne cominciò a rotolarsi di nuovo. «Chiami i tuoi amici per uccidermi!» gridò. «Io non morirò, non così!» «Calmati!» le disse Annabeth. «Ti lasceremo vivere. Vogliamo solo la statua.» «La statua?» «Sì.» Annabeth avrebbe dovuto piantare lì il discorso, ma la paura si stava trasformando in rabbia e risentimento. Vuoi sapere quale sarà l'opera d'arte che sporrò bene in vista sull'Olimpo? Di certo non la tua. Quel posto spetta all'Atena Parthenos. Sorgerà nel parco centrale degli dèi.» «No! No, è tremendo!» «No, non succederà subito», continuò Annabeth. «Prima porteremo la statua in Grecia. Una profezia ci ha rivelato che ha il potere di sconfiggere i giganti. Dopodiché… beh, non possiamo semplicemente rimetterla nel Parthenone. Solleverebbe troppe domande. Sarà più al sicuro sul Monte Olimpo. Unirà i figli di Atena e porterà la pace tra Romani e Greci. Grazie per averla tenuta al sicuro tutti questi secoli. Hai reso un grande servizio ad Atena.» Arrak ne urlò e si dimenò. Un filo di seta schizzò dalle filiere del mostro e andò ad attaccarsi a un arazzo sulla parete in fondo. Il ragno contrasse l'addome e lo strattonò alla cieca. Continuò a rotolarsi, sparando seta a casaccio, rovesciando bracieri di fuoco magico e strappando piastrelle dal pavimento. La sala tremò. Gli arazzi cominciarono a bruciare. «Fermati!» Zoppicando, Annabeth tentò di schivare la seta del ragno. «Demolirai la grotta e ci farai morire entrambe!» «Sempre meglio che assistere alla tua vittoria!» gridò Arrak ne. «Figli miei, aiutatemi!» Annabeth aveva sperato che l'aura magica della statua tenesse alla larga quelle bestiacce, ma Arrak ne continuava a urlare, implorandoli di aiutarla. Lei prese in considerazione l'idea di uccidere il gigantesco ragno per farlo tacere. Sarebbe stato semplice usare il pugnale. Ma quando erano così indifesi, esitava a uccidere qualsiasi mostro, perfino Arrak ne. E poi, se l'avesse pugnalata attraverso il cilindro di seta intrecciata, la trappola magari si sarebbe sciolta. Ed era sempre possibile che il mostro si liberasse prima che lei riuscisse a farlo fuori. Nel frattempo i ragni cominciarono a sciamare per tutta la sala. La statua di Atena divenne più luminosa. Le piccole creature non avevano voglia di avvicinarsi, ma si spostavano lentamente in avanti, come se stessero raccogliendo il coraggio per farlo. La loro madre gridava chiedendo aiuto. Alla fine sarebbero arrivati a frotte. Avrebbero sommerso Annabeth. «Arrak ne smettila!» gridò la ragazza. «Io!» In qualche modo, il ragno si girò all'interno della trappola in cui era imprigionato, puntando l'addome verso il punto da cui proveniva la voce della semidea. Un filo di seta la colpì al petto, come il guantone di un peso massimo. Annabeth cadde, mentre la gamba le scoppiava di dolore. Colpì come una furia la ragnatela con il pugnale, mentre Arrak ne la tirava verso di sé. Riuscì a tagliare il filo e ad allontanarsi strisciando per terra, ma i ragni la stavano circondando. Capì che tutti i suoi sforzi erano stati vani. Non ce l'avrebbe mai fatta uscire da lì. I figli di Arrak ne l'avrebbero uccisa ai piedi della statua di sua madre. «Persi!» pensò. «Mi dispiace!» In quello stesso istante, il tempio scricchiolò e il soffitto della grotta esplose in un lampo di luce infuocata.